Musica Domenica e lunedì il Papa ha chiesto preghiera e digiuno per la pace in Terra Santa, le riflessioni da Assisi al Santuario della Corona, anche Telepace proporrà vari momenti di preghiera. Secondo giorno del Festival Planetary Health, questa mattina le riflessioni sulla comunità planetaria e la vita dell'uomo alla Gran Guardia, presente anche il Vescovo Domenico. Assemblea nazionale oggi all'Università di Verona della rete Scholars at Risk Sar Italy che si occupa dell'accoglienza di studenti ricercatori dai paesi con imitazioni ai diritti civili. Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Telepace. Apriamo parlando dell'appello lanciato da Papa Francesco per la preghiera per la pace in Terra Santa, con l'invito a pregare domenica sera e a pregare e a digiunare lunedì prossimo. Appelli anche da Assisi, oggi è la festa di San Francesco e dal Santuario della Madonna della Corona. Anche Telepace poi sarà in diretta lunedì per alcuni momenti di preghiera. Ma vediamo il servizio. Tutti i giorni al Santuario della Madonna della Corona si prega per la pace nella messa e con il rosario. L'appello del Papa alla recita del rosario domenica e la giornata di preghiera e digiuno di lunedì per la Terra Santa qui assume un sapore particolare per lo stretto legame anche che lega da anni il rettore Don Martino alla terra di Gesù. La preghiera del rosario è un modo per essere consapevoli di quello che sta capitando, di essere solidali e di tenere sveglia, la preghiera è una veglia, tenere sveglia questa attenzione nei confronti di questo luogo così martoriato come stiamo vedendo. Dopodiché la preghiera ci invita anche ad essere efficaci nel sapere per cosa pregare e per chi. Dobbiamo pregare sia per le vittime innocenti, che sono tantissime, in maniera anche, vengono prodotte in maniera feroce, stiamo vedendo cose che neanche pensavamo prima, e per coloro che comandano, per i governanti, che sembrano accecati dal potere, dal desiderio di avere sempre più forza e di vincere sempre. L'invito del Papa è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà e è un appello a essere presenti e non indifferenti di fronte a un dramma che può allargarsi ogni giorno di più e che testimonia la tragedia delle tante vittime civili della violenza e dell'odio in un richiamo viscerale alla forza della pace. Il digiuno è una forma di penitenza importante, privarsi di un pasto o di tutto il giorno, come sta succedendo a molti popoli, a molta gente che non ha neanche da mangiare, bambini che non hanno da mangiare. Privarci di qualcosa però per condividere, non solo per praticare una forma così di penitenza, condividere. E abbiamo già fatto un viaggio in Terra Santa, siamo stati a portare un aiuto economico, quindi privarci di qualcosa per dare un aiuto alla Terra Santa. Abbiamo aperto a questo conto, Emergenza Terra Santa. E da Assisi arriva l'invito a mettersi sulle orne di San Francesco, uomo di pace, da Fra Simone Tenuti responsabile del Centro Francescano Giovani. Sappiamo che la situazione internazionale di giorno in giorno qui pare peggiorare, forse peggiora, e Francesco è stato un uomo di riconciliazione e di pace. Quindi penso che questa giornata ci richiami proprio a questo, ed è una cosa da chiedere insistentemente al Signore, ma è una cosa anche da imparare a vivere, prima di tutto, dentro di noi e nelle nostre relazioni. E dunque ricordo che Telepace partecipa alla giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace lunedì, con vari momenti di preghiera, adorazione eucaristica, alle 9.45, alle 15.15 e alle 16.30. Sul dibattito suscitato dalle parole del Papa nel viaggio a Bruxelles, che hanno provocato un coro di sdegno da parte dei medici definiti sicari, in riferimento all'aborto che è un omicidio, interviene in un comunicato il dottor Alberto Virgolino, presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici. Virgolino invita i colleghi ginecologi a riprendere alcune parti della legge 194 e la realtà non ideologica, che si tratta di un intervento su un essere umano nelle sue prime fasi di sviluppo nell'essere materno, dato scientifico che supera le confessioni religiose, e inoltre che la legge stessa pone paletti specifici come il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la presenza di seri motivi per abortire entro le dodicesima settimana. Pertanto è chiaro, dice il comunicato, che è in gioco inequivocabile la vita di un essere umano. Secondo giorno a Verona del Festival Planetary Health, Questa mattina le riflessioni sulla comunità planetaria e la vita dell'uomo alla Gran Guardia, presente anche il Vescovo Domenico. Vediamo. Continua il dibattito sui temi dell'ambiente, della salute, della convivenza dell'uomo nella sua relazione con il pianeta nella prima edizione di Planetary Health Festival. Questa mattina alla Gran Guardia la tavola rotonda sul tema Comunità planetaria, un nuovo orizzonte culturale, etico e sociologico per il futuro della vita dell'uomo sul pianeta con un intervento anche del Vescovo Domenico. Ci siamo sempre più resi conto che c'è una connessione molto stretta tra la qualità dell'ambiente e anche la qualità della vita personale. Ricorderemo, penso per sempre, le parole di Papa Francesco nel pieno del Covid quando disse ci eravamo illusi di poter vivere in modo sano in un ambiente tossico e penso perciò che sia importante uno sguardo integrale come si addice ad una visione in cui tutti i vari elementi quello sociale, quello culturale, quello economico siano connessi anche perché non è da oggi che si coglie una correlazione tra la qualità della vita personale e la salute. Il festival è promosso dalla società Healthival con il patrocinio del Comune di Verona e si svolge con tanti eventi in città. Qual è l'obiettivo del festival? È di diffondere la cultura di questa salute planetaria che significa salute dell'uomo, salute degli animali e salute dell'ambiente perché non c'è una se non ci sono le altre e per l'uomo significa salute fisica, salute mentale e salute sociale. Qual è la sintesi dell'intervento che vuole lanciare, del messaggio che vuole lanciare questa mattina? In realtà io vorrei semplicemente dire a me stesso e anche agli altri che la medicina ha un compito fondamentale ma l'impressione che si ha è che talora alla medicina si attribuiscano dei valori e dei poteri superiori alla sua possibilità. Più che la salute si cerca quasi la salvezza e questo poi genera tutta una serie di problemi perciò è importante ricondurre la medicina a quella che è la sua possibilità senza mai dimenticare che la morte e la vita sono intrecciate. E tra i vari incontri è anche un gesto molto simbolico quello dell'abbraccio da parte degli studenti veronesi dell'Arena all'Anfiteatro Romano della città. In un altro incontro questa mattina è stato presentato tutta la plastica che non vediamo il primo rapporto internazionale che raccoglie gli studi scientifici sulla presenza di micro e nanoplastiche nel corpo umano uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università della Campania Van Vitelli che evidenzia anche i collegamenti tra queste particelle e patologie specifiche. 158esimo anniversario di fondazione del corpo di polizia municipale con due momenti celebrativi questa mattina prima al comando dei vigili in via del Pontiere con la deposizione della corona per i caduti e la messa poi a seguire in sala mafeiana un altro momento commemorativo e celebrativo. Assemblea nazionale oggi all'Università di Verona della rete Scholars at Risk, che si occupa dell'accoglienza di studenti ricercatori dai paesi con limitazione ai diritti civili. Vediamo. L'accoglienza di studiose e studiosi a rischio nelle università è esperienza, confronto e supporto da parte delle istituzioni. Questo è il tema dell'Assemblea annuale della rete Scholars at Risk, in Italy, che opera per dare un'opportunità di studio e lavoro a ricercatori e studenti che provengono da stati in cui non sono garantite le libertà individuali. Tra i relatori Vittorio Sandalli, oltre 30 anni in diplomazia, è stato ambasciatore in Georgia, Indonesia e Afghanistan. È difficile per loro. È difficile perché sono sottoposti a pressione, sono sottoposti a limitazioni della libertà o a violenze vere e proprie. E in più fisicamente poter lasciare il paese, poter ottenere tutti e anche i mezzi, sia finanziari, sia anche amministrativi per poter lasciare il paese. Occorre un percorso particolare per ottenere il visto d'ingresso. Occorrono tutta una serie anche di sforzi da parte del sistema del paese che accoglie per poter fare in modo che il ricercatore e la sua famiglia possano lasciare un paese dove sono sottoposti a questa limitazione della libertà accademica. Ma proprio per questo io credo sia importante una rete come Scholars at Risk di cui l'Italia ha una componente particolarmente attiva. Attualmente all'Università di Verona sta lavorando un ricercatore iemenita e l'Ateneo si sta predisponendo ad accogliere un altro ricercatore, una grande opportunità di crescita e di scambio culturale nella reciprocità. Accogliere studiosi e studiosi che provengono da paesi a rischio è importante perché costituiscono una risorsa per i nostri Atenei in termini di relazione, in termini di crescita scientifica e in termini anche di territorio della città. Queste accoglienze, ecco, è da precisare, sono accoglienze molto particolari, molto specifiche, richiedono molto sforzo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista, diciamo, del accompagnare l'inserimento di uno studioso o di una studiosa negli Atenei e nella vita della città. sono accoglienze che sono legate a uno studioso. Si svolgono quest'anno a Verona, oggi e domani, le manifestazioni per la consegna del XVII premio letterario Carlo Castelli riservato ai detenuti degli istituti penitenziari italiani e anche minorili organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo de Paoli Settore Carcere e Devianza. Il tema di questa edizione è la speranza. Domani alle 10 appuntamento al Teatro Nuovo di San Michele sul tema Nuove Speranze dopo il Reato. E adesso vediamo il nuovo numero di Verona Fedele. Cari amici, un saluto dalla redazione di Verona Fedele. Il settimanale della Diocesi su questo numero parla della presenza francescana e tempo appunto della festa di San Francesco qui nella Diocesi Veronese è una presenza storica. Si parla, si risale a sette secoli fa. In realtà è molto consistente pure oggi. Abbiamo intervistato gli operatori della realtà di San Bernardino, del Comune di San Bernardino, e al Barana, la gioventù francescana. C'è tanta spiritualità, ma ci sono anche tante opere di bene. Parliamo poi di usura. L'occasione è l'accordo rinnovato tra la Fondazione Tovini, Diocesana e Banca Mediolanum appunto per venire incontro a quelle persone che cadono nella trappola dell'usura. Una situazione ancora particolarmente pesante per certuni. In situazioni di difficoltà economica, di fragilità, si rivolgono alle persone sbagliate. Abbiamo fatto una bella pagina anche di ricorda fotografica del meeting degli adolescenti che si è svolto nei giorni scorsi alla Pala GSM. 3.000 tra giovani animatori si sono incontrati per alcune ore molto belle di riflessioni e anche di divertimento. E infine vi ricordiamo l'uscita in edicola e la possibilità di acquisto del nuovo libro di Monsignor Zenti, il nostro precedente vescovo, Dalla cristianità all'intelligenza artificiale. E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.